Mi chiamo Davide Franzi, sono responsabile per Insieme Sipò di tutti i progetti in Uganda e oltremodo sono anche nello specifico anche responsabile del progetto Sassima. Insieme Sipò è una piccola organizzazione di Belluno che lavora qui ormai da più di 20 anni. La filosofia che si sta dietro ai nostri interventi è quella di fare in modo che gli africani siano artifici del loro stesso futuro, ossia non siamo più noi che facciamo i progetti ma spingiamo loro a fare, a implementare le nostre idee, i nostri progetti che insieme nascono con la comunità. Noi facciamo soprattutto know-how, certo anche costruzioni ma soprattutto conoscenze, lavorare assieme e molte volte invece i donatori preferiscono finanziare una scuola perché è visibile senza pensare che dopo aver fatto la scuola bisogna mantenere la scuola, bisogna gestirla, bisogna fare in modo che questa scuola vada avanti al futuro. Ma noi abbiamo iniziato questo intervento dieci anni fa e lo finiremo forse fra vent'anni. E' questo che dà continuità al nostro lavoro. La filosofia di ESP è di creare un lavoro, una situazione migliore attraverso la collaborazione con le persone. Abbiamo impostato veramente questa filosofia di chiedere cosa c'è che non va e cosa si può fare insieme. Ovviamente sempre nell'ottica di cooperazione nel senso di fare qualcosa insieme, quindi c'è da fare una scuola. Io non vengo e costruisco tutta la scuola per te senza che tu contribuisca almeno a scavare le fondamenta o a portare i sassi tipo questi che servono appunto per fare le gettate di cemento. E' proprio partnership, 50 e 50. Noi portiamo poi certe tecnologie, certe tecniche, ma di sicuro non lavoriamo per le persone, lavoriamo con le persone. Secondo me è molto importante questa differenza. Ed è la differenza secondo il mio parere da quando sono qui che ha fatto sì appunto che nella comunità ESP sia ben vista, sia accettata, sia anche come dire veramente messa in mano in alto perché siamo con le persone, stiamo con loro, ci sporchiamo le mani ecco, cosa che non è così scontato nella cooperazione. Tanta gente viene qui dai propri paesi, rimane in ufficio, non sa neanche dove si trova, non so se mi spiego. Qua a noi invece piace sporcarci le mani.